Il sacco della città metropolitana, nelle sue funzioni, mentre è presenza a una cerimonia che inaugura un espò, mi ha aggredito, mi ha provocato, ha cercato di buttarla in rissa. Non credo che i Liguri meritino questo e non credo neanche che davvero dobbiamo scadere a questo livello da bulletti di terza media. Dici che tu hai fatto i finanziamenti di Galliera. I finanziamenti di Galliera sono delle linee sulla base di una norma che ho fatto io, del 22. Se le cose non le sai... No, io sono solo... Vieni qua per favore, non hai finito. Hai paura allora? Hai paura? Hai paura? Bravo, sei ancora giù. Adesso devo andare via io. Ah va, ah! Però io ci devo con te a parlare, chiaro? Perché queste cose qua adesso non è... Di Galliera, io l'ho fatto ogni 18, chiaro? Legge del 23 ha sbloccato i finanziamenti dell'Inalì. Informati tu! Si è fatto male. E se pensi che urlando con me tu mi fai paura, ti sbagli, perché ho incontrato delle persone molto, ma molto... E certo, urlo io perché non lo so. Perché io non so. Perché io non so. Calmati, non lo sei. Tant'è vero che ti devi andartene. Stai qua se vuoi parlare. Benissimo, non andavi tu. Sono Galliera.